musica 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 vieni con io eh ma chi è che guarda i nostri video quando facciamo queste battute del cazzo? chi guarda i nostri video in genera no ecco ecco poi fai le grandi figure di merda oh cazzo cazzo chi è che fai le figure di merda? scusi io non ho sicuro perchè li ho appena fatti fuori ah si non io con la supercaricata supercaricata guarda che anche io gli ho cacciato la supercaricata senti madonna posso usare la moto? no sei un bastardo gioco di merda cosa cazzo vuoi usare la moto? scusa allora non usiamo le macchine di formula 1 perchè non c'è spazio a monaco cazzo vuol dire ciò che fanno pure che non per la mia monna qui non c'è lo spazio luca 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 ma che cazzo stai dicendo? ma te ti sei fottuto il cervello cioè non avermi più nei canali ti fottuto il cervello ma yard attenzione prima mi diceva di farmele meno peso beh no il tuo nome ti diceva altre robe però che sciamperde si ho paura di sapere quello che volevi dire guarda proprio però non è che se mi fate uscire qualcosa di raro per livellare mi fa schifo come cosa eh cioè nel senso Ooh tranquillo ci stavo nooo nooo nonoo noooo ho finito le grandi munizioni aspetta sei un po' una merda e yeah cavaliere ancora non è morta è impressionante quanto abitabile yes no scoop attenzione non l'ho preso mai nella mia vita yes ma delle munizioni da qualche parte? no vero è così pari ah siamo già rientro limitato cazzo siamo già così tosti mamma mia il termine tosto non lo usavo dal 1873 per dire mamma mia ma li sto facendo esplodere esplodere male grazie per le armi non comuniche oh fanculo quel cavaliere fa male rega aspetta che controllo le armi ma chi sta parlando che ci siamo solo oh ho trovato un ingramma merda mi sta segando diobosse godo se ti ammazzano fai lo sbro brutto figlio di troia che fa lo sbro senti io uso la super me ne frega niente ciao aspetta eh perchè lo dici come se mi dovesse interessare perchè ti interessa no eccolo mie 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 lucine no aspetta 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 che voglio vedere quanto togli questo casco della merda che mi ha appena dato 137 ma ammazza ti andiamo io non ho niente io invece no a me invece non danno niente comunque Luca Luca comunque no aspetta guarda qui io ti volevo dire no di pulire il pavimento perchè porca puttana non è che ci puoi buttare le ossa dopo che mangi e non pulire porca puttana ci siamo chi è che si udisce ai party dio bubu da youtuber qui non ci sono solo youtuber non ci sono più sono tutti morti ma è bello che è bello che non si sentirà perro quindi è ancora più bello si yes godo ciao ciao garo è bello che sembrerà che parli l'hai evocato è stato intenso è stato intenso no vabbè la taglia quella parte lì ma l'hai evocato te così no ma perchè sai io non vorrei dirti le cose brutte però in teoria quando si fanno i video bisogna mettere su invito demente oh senti non me ne fotto un cazzo cioè taglia è buona quanto ci vuoi 30 secondi dio santo ma ce la fai a non lamentarti ogni tanto nella tua vita sto morendo aspetta è il telefono che suona che bello yes yes no mettilo tutto così a sto punto a sto punto mettiamo tutto basta mi è fotto chi è quel mona che ti amo si anche le bestemmie si 3 9 0 0 0 0 0 0 0 che numero di telefono è bancato madonna perchè hai in attesa che il tuo alleato ti rianimi? perchè sei morto? non mi fa sponare io ti rianimato sbombo no dai mi hai fatto sprechiare la super ma dimmelo quando la usi cazzo no non lo non te lo dico perchè sono un coglione sì 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 ma sta missione è un po' facile sono morto io ecco 3 perfetto io nessuna spero continui a registrare no ma ho una munizione ma dai ma come ma non dire io ti vengo a salvare i messaggi su me ne fotto ciao cazzo rispondi che ti rianimati idiota idiota io non ho più un inizio non so se hai capito la situazione qual è qui eh sì ma fa affanculo mi fanno fuori dopo 20 secondi sono mancanza eh quindi vai tranquillo eh male anch'io ma sai com'è devo fare una sfida e non dovrei morire ma tanto lo so che morirò perchè Luca non ammazza nessuno ecco Luca non ammazza nessuno e mi fa uccidere che è che ringraziamo come se la cosa mi interessasse ah ok sì infatti io prima stavo registrando mi sono arrivate 700 notifiche non me ne fotto un cazzo se gli altri entrano in un party cioè entrassero nel mio capirei no entrano in un party a caso va bene ok ma dipende o no Luca no scusa quando registro no vabbè in generale dico entrano in un party non arriva una notifica manco per un cazzo stanno solo in mezzo Luca eh non è che siamo su playstation 5 eh siamo solo nel 2014 vedi di non dire queste fantascientificagini 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 grazie per l'italiano grazie ma creep video salvato immagino eh vabbè eh vabbè mi ha sciottato dai Luca cazzo ma ti ha sciottato oh oh buongiorno sciotta dio povero dio non era povero e lo sappiamo tutti che sa il villone hai capito quindi non dire cazzato dio dio bubu che sa il villone non si sa dove lo sposta tutti i giorni la via prefabricata di dio only on the world of power bitch un enagramma che ovviamente fa cagare la merda anche se non mi sta così vicino non è che mi dispiace come cosa va di va di gay io le sparo si ma è già morto ma dai ma che merda con i soldi fa il barbone ma ce l'abbiamo fatta mai mai no evoca lo spett dai to bitch l'ho fatto prima dai evoca sto spett lo ho bastardo 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 ah 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 che cos'è chi è e quindi ma di che dimensioni era se questo è un frammento del viaggiatore e il viaggiatore è la palla enorme che è sulla terra quindi si vede come ho fatto bene la storia di questi sai com'è saltavo da una missione di Marte a una missione sulla terra a una missione su Venere che se boh anch'io ma enagramma è incoerente ma cosa mi caghi mai boh rega io direi che possiamo finire anche i grandi video qui sta che lì c'è Luca quindi io vi saluto vi ringrazio e al prossimo video rega mi raccomando passate sul mio c'anale perché tanto farò grande pubblicità di cui non troverete il c'anale che è dark effect di cui non troverete in descrizione ragazzi vi saluto vi ringrazio per e zia e Luca sono anche sopra di uccisioni bitch ci vediamo al prossimo video e bella a tutti bella a tutti ragazzi sì bella